Ok, ci siamo. Torno a parlarvi di scambiatori di calore e questa volta vi parlo di scambiatori di calore a fascio tubiero. Diciamo che gli scambiatori di calore a fascio tubiero sono, come dire, la storia dello scambio termico, nel senso che sono stati tra i primi ad essere impiegati sulle varie applicazioni di raffreddamento, siano esse industriali, piuttosto che di condizionamento. Ne esistono di diverse tipologie. Possono essere scambiatori a fascio tubiero a tubi dritti scovolabili, a chioma, ovvero a fascio tubiero a U estraibile, pluripassaggio, monopassaggio, a teste flottanti. Diciamo che la tipologia è molto varia. In qualche immagine potete vedere i vari tipi che vi ho enunciato. Vantaggi e svantaggi delle varie soluzioni e quando si impiegano. Partiamo da quelli che noi impieghiamo maggiormente che sono gli scambiatori a tubi dritti scovolabili. La parola stessa, diciamo, ne denuncia la costruzione. Sono degli scambiatori dove si possono smontare le due testate e si vedono i tubi all'interno dei quali scorre il fluido che sono tubi dritti, quindi passano da una testata all'altra e possono essere puliti, quindi scovolati, con un semplice scovolino. Chiaramente il diametro di questi tubi è in funzione del tipo di fluido che deve passare, del tipo di scambio termico. Ora non voglio addentrarmi nei particolari di progettazione che richiedono magari delle spiegazioni più prolungate. Semplicemente diciamo che è intuitivo, guardando la forma si può capire che io smonto le due testate dello scambiatore, entro con uno scovolino e posso pulire i tubi, tubo per tubo e quindi asportare l'eventuale sporcizia, pulirli dall'eventuale sporcizia che si deposita. Cosa accade? Nella parte esterna, quindi nel mantello, solitamente uno scambiatore del genere è saldato, il fascio tubiero non può essere estratto, quindi nel mantello faccio passare il fluido pulito. Sono scambiatori che trovano impiego, ad esempio, nel settore della cogenerazione come recuperatori sui fumi esausti dei motori. I fumi li faccio passare nei tubi e li pulisco. Nel biogas, per la deumidificazione del biogas, il biogas lo faccio passare all'interno dei tubi, all'esterno c'è l'acqua glicolata che quindi è pulita. Nei tubi, se il mio biogas rilascia delle impurità, posso pulirli. Si utilizzano per la produzione di acqua calda con vapore, nel mantello faccio passare il vapore. All'interno dei tubi passa l'acqua che si riscalda ed esce da un'altra parte riscaldata. Che limiti hanno? Dei limiti che sono legati alla loro lunghezza. Chiaramente se ho bisogno di uno schema termico lungo con dei salti termici molto lunghi, devo mettere più scambiatori in serie perché non posso fare passaggi in serie, o quantomeno è un pochino più complicato. Si può fare, ma diventa complicata la costruzione del testato. L'altra tipologia, classica, è quella degli scambiatori a chioma o a fascio tubiero a U estraibile. In questo caso ho un fascio tubiero, come vedete dall'immagine, che è formato da tanti tubi a forcella a U saldati su un'unica testata. In questo caso la parte pulibile è la parte del mantello, quindi la parte esterna, perché il fascio tubiero tipicamente posso estrarlo. Ovviamente non posso pulire i tubi, perché se i tubi arrivati in fondo fanno una curva e tornano indietro, chiaro che con lo scovolino non posso andare a pulire la curva. Si tende ad utilizzare il fluido sporco dalla parte del mantello, anche se, vi faccio vedere questa foto, potete rendervi conto che quando il numero dei tubi è tale e la loro costruzione è così fitta che la pulizia risulta pressoché impossibile o comunque molto complessa. Da questo punto di vista diciamo che qualche difficoltà in più c'è. In questo caso la lunghezza termica me la gioco meglio, nel senso che se guardando il disegno di un scambiatore a fascio tubiero a tubi dritti scovolabili posso capire che la mia lunghezza termica delle tubazioni è la lunghezza piastra piastra, in un fascio tubiero a U questa lunghezza era doppia, perché io posso entrare da una parte e uscire dall'altra col fluido e a quel punto in due metri di lunghezza ho fatto quattro metri di tubazione. A livello costruttivo come materiali si può utilizzare un po' di tutto, dall'acciaio inossidabile al rame, al ferro, dipende molto dai fluidi che andremo a trattare, dal processo, dalle temperature e qui si entra in un altro grande argomento che potremmo portare avanti, ovvero parlare dei materiali costruttivi degli scambiatori a fascio tubiero. Spero di essere stato chiaro e spero che la cosa sia interessante. Se volete maggiori delucidazioni scrivetemi.